...una serata fortemente voluta da dei personaggi che poi vorrò... ...cappalona è buonissimo, il gelato al cioccolato e che amano tutto dell'Italia come noi amiamo fortemente, ve lo garantisco, il popolo albanese... ...è l'Albania che risale a secoli e secoli fa e noi stasera... ...e adesso perché questa sera... ...questa grande cultura storica che attinge proprio ormai nei secoli dei secoli... ...e adesso una canzone che parla di un po' voce... ...ma dove do andare ti amo... ...ti annoimo bene e guardiamo... ...sei bella ti lasci guardare... ...moron-kan, roon-kan... ...rollin' ron-kan... ...che se potre' giù si non è letto... ...que non parte su mai life... Grazie a tutti.